Struttura della vostra mente Cerchio Marina attraverso Attilio M vocedellacuete.vagliano.chiocciola gmail.com Andrea Quando rimanete appagati, di solito, non vi interrogate quasi mai sul perché, dato che l'appagamento è già la giustificazione all'esistenza di quell'azione e alle modalità con cui quell'azione è stata realizzata Quando è che caso mai vi chiedete qualcosa su un'azione o su un fatto? Quando questo fatto non vi aggrada, quando non trovate appagamento e quindi quando balza in evidenza che c'è uno scostamento tra la struttura della vostra mente che sono i vostri desideri, le vostre aspettative, i vostri progetti, le vostre immagini, le vostre interpretazioni e dall'altra parte ciò che riuscite a realizzare o ciò che si impone a voi Grazie a tutti i nostri spettatori